Non ci sono nissimi ricoverati in ospedale per covid, non succedeva dalla scorsa estate, sono solo 16 positivi in quarantena domiciliare in città, 5 nuovi contagi in tutta la provincia, 9 i paesi covid free. Sembra veramente che si stia vedendo la luce in fondo a tunnel. Sono 235 positivi in tutta la provincia e solo 18 i ricoverati sempre su base provinciale. Galoppa la vaccinazione in città e in provincia, 136.723 le dosi inoculate. In città la popolazione vaccinata con la prima dose del 40,12% e invece con la seconda dose copre il 21,86%. Grazie Grazie